21,99€ il prezzo di questo prodotto che arriva dentro questa confezione, il regalo secondo me è anche ideale appunto per essere confezionata e data così come arriva perché è un cartoncino rigido, nero, opaco con una trama di finto tessuto che la rende idonea perché no, per un regalo. Sacchettino anti umidità, sempre molto apprezzato, vediamo un po' all'interno come è organizzato il portafoglio, vi dico già che di questa tipologia se ne trovano veramente tantissimi di portafogli e qui ne abbiamo uno che ha delle caratteristiche che sono secondo me a metà tra tanti modelli che ci sono, ovvero questo è un portafoglio dove non c'è la tasca superiore per le banconote ma abbiamo la clip per inserirle qua e chiudere, clip che arriva dal passato e che appunto in altri tempi era la modalità principale con cui venivano ottenuti i soldi all'interno dei portafogli, forse noi oggi ci siamo un po' disabituati. Abbiamo la tasca per le monete che è questa, si espande da un solo lato mentre dall'altro resta chiuso, cosa che francamente avrei fatto ma al contrario in modo tale da far sì che lo spessore si vada a creare non al centro ma al bordo ed eventualmente resti un po' più aperto ma non vada a deformare il centro del prodotto. Slot per una scheda, una card, una carta o un qualcosa di plastico qui esterno con la finestra tra l'altro facile perché queste finestre servono per spingere via la carta e facilitarne l'uscita. Altra finestra ce l'abbiamo qui tendenzialmente per documenti di identità visto che è trasparente e la possiamo mettere e togliere dalla parte superiore qua dove abbiamo poi un'altra tasca, una seconda tasca, siamo a tre in totale nella parte superiore da questa parte. Poi girando questa aletta abbiamo ulteriori due tre tasche disponibili, ho perso il conto siamo a sei tasche disponibili, vedo qua una settima, una ottava, una nona tasca e una decima tasca. Qui è ancora un'undicesima qua sotto in totale. Che cosa ne penso? Beh io sono personalmente più favorevole alla tasca superiore per le banconote, non mi piace tenerle sventolanti così che quando devo prendere qualcosa poi ondeggiano in giro. Soprattutto preferisco averle separate rispetto a tutto il resto sia per non farle vedere, non mi piace tanto l'esibizionismo di questo tipo, sia per una questione igienica che così vanno a toccare da tutte le parti e di questi tempi forse non è proprio l'ideale che tocchino i soldi da tutte le parti. Per il resto è un prodotto pressoché identico al portafoglio che ho in uso, cambia qualche finitura, qualche colore, cambia appunto il fatto che non ha la tasca per i soldi ma ha la clip per agganciarli in questa maniera come si usava in altri tempi. 21,99 euro è un prezzo onesto, solitamente siamo lì tra i 20 e i 25 euro, dipende poi appunto da come è organizzato il portafoglio. Volevo solo vedere la protezione RFID perché se ne parla ma io non ho visto nessun tipo di materiale particolare, almeno visibile, poi magari è interna e non si vede per questi motivi. Vediamo anche qua esternamente se si riesce a vedere qualcosa del materiale che è in uso, tra l'altro è pelle, questa è pelle, pelle finta, simile pelle, però è pelle come anche al dato molto gradevole. Voglio vedere ancora qua se abbiamo la protezione RFID ma io non la vedo francamente, forse è il tessuto che è stato usato, è l'unica speranza che posso nutrire visto il tutto. Vediamo se qua mi lascia accedere alla parte interna e vedere... no, io vedo cuciture tradizionali. Eppure è citato, devo vedere quale parte è data per essere RFID. La parte che viene data, almeno stando alle immagini, è il retro. Ma il retro sì, sarà anche RFID, forse è proprio la parte nera qua esterna che è RFID. Non lo so, devo fare qualche prova con un POS e la vado a fare tra poco, vi racconto come mi sono trovato nella recensione testuale di questo prodotto.